Firmato a Teramo l'accordo che prevede il riordino funzionale e la riqualificazione della stazione ferroviaria e delle aree circostanti. In particolare il progetto riguarda l'imponente opera per l'arretramento della stazione Teramana, un'iniziativa che trova il suo compimento alla luce delle opportunità offerte dalle risorse del PNRR, assegnate a RFI per il miglioramento delle stazioni del sud. Con la firma del nuovo accordo con RFI sulla base del finanziamento del PNRR, che è stato dedicato anche alla stazione di Teramo, al restyling e alla riqualificazione di tutta l'area della stazione, andiamo a definire un percorso, un progetto che la città attendeva da anni, su cui hanno lavorato tante amministrazioni e che oggi arriviamo a portare a compimento con la firma della convenzione, riqualificazione della stazione, con l'arretramento dei binari, ma soprattutto la ricucitura urbanistica del quartiere e la restituzione di uno spazio fondamentale appunto per la città, considerato anche che si tratta di un'area in forte espansione nell'ottica di una nuova mobilità all'interno della città, che mette a sistema e mette a dialogo ovviamente tutti gli spazi del territorio cittadino. L'intervento comporta un investimento economico complessivo di circa 23 milioni di euro da fondi PNRR, con un contributo del Comune di Teramo che si impegna a porre in atto azioni finalizzate a valorizzare la stazione come luogo di centralità dello sviluppo territoriale e della mobilità. Le tempistiche sono molto serrate, come sapete le milestone del PNRR prevedono il completamento dei lavori entro il giugno del 2026, per cui con la presentazione di oggi matura una fase importante anche di confronto con la città per poi procedere speditamente con le attività negoziali, quindi l'affidamento dei lavori e l'avvio dei lavori stessi entro il primo trimestre del prossimo anno. Quindi i tempi sono molto serrati, però l'attenzione anche rivolta dalla città a questo progetto, alla sua priorità, sicuramente daranno il giusto impulso al rispetto degli obiettivi temporali. Grazie a tutti.